Non ha avuto scampo Antonio Giovanni Calia, l'allevatore di 63 anni di Lula, assassinato domenica mattina all'interno della sua azienda, alla periferia del paese. Due colpi di fucile caricati a pallettoni lo hanno raggiunto al capo, determinandone la morte. E' quanto risulta dall'autopsia eseguita ieri nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Il risultato dell'esame autoptico aggiunge elementi a quelli già al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro e della compagnia di Biti, che hanno avviato le indagini per far luce sull'ennesimo omicidio che ha sconvolto la comunità di Lula. L'operato dei militari è coordinato dalla procura di Nuoro. La procedura è quella consueta, sono stati sentiti familiari, amici, conoscenti. Si stanno analizzando gli elementi raccolti sulla scena del crimine. Questo al fine di ricostruire un quadro completo degli ultimi anni di vita di Antonio Giovanni Calia, che era tornato in libertà nel 2011 dopo aver scontato una pesante condanna per il rapimento dell'imprenditore nurese Luigi De Votto. Non ci sono alcun particolare per venire a capo dell'omicidio. Si parte dal passato della vittima, ma non si lascia nulla d'intentato. L'obiettivo è quello di dare un nome all'autore del delito, che ha riportato il paese indietro nel tempo, ad anni che sembravano ormai un lontano ricordo.